È un forum di coproduzione euro-mediterranea, un'occasione importante per portare 20 produzioni dal Mediterraneo, ma anche dall'Inghilterra, dall'America, dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Ivo, dall'Israele, qui a ragionare, a completare i propri budget. Che significa questo? Aprire un dialogo importantissimo, in questo caso nella città di Brindisi, e far conoscere il nostro territorio, proporre ovviamente le opportunità di girare in Puglia, far innamorare di questa terra, insomma il lavoro di Apulia Fin Commission, è, come vi dicevo, la caratteristica più importante del far cinema, il dialogare, stare insieme, e ragionare di cinema, e quindi di opportunità per i territori. Quarto forum di coproduzione, attivato dalla Fin Commission su fondi europei gestiti da Regione Puglia, questa volta a Brindisi, in tutta la sua potenzialità di dialogo mediterraneo, di dialogo con le altre sponde. 20 progetti selezionati, tutti alla ricerca di un senso profondo di collaborazione tra i registi pugliesi italiani e quelli degli altri paesi.